Il boss era stato arrestato dopo che nel suo covo di termoli era stato rinvenuto un arsenale, una cinquantina di armi di vario genere caricate su un'auto nascosta in un garage del pieno centro. Kalashnikov pistole, silenziatori, passamontagna, giubbotti antiproiettili sistemati nella DV e un foro praticato nella Sara Cinesca con la fiamma ossidrica che fece scattare le indagini della polizia. Poche ore gli investigatori scoprirono che il box era nella disponibilità di Felice Ferrazzo, ex boss dell'Andrangheta calabrese. Proprio lui già arrestato nel 2000 per traffico di armi e poi diventato collaboratore di giustizia finì di nuovo in manette dopo l'impressionante scoperta fatta a Termoli. Un legame con il basso Molise giustificato anche dall'arresto del figlio Eugenio, che viveva a Campomarino, bloccato a San Salvo in un garage adibito a una sorta di raffineria di droga. Non è chiaro se le armi custodite a Termoli servissero ad armare la cosca di Ferrazzo, fatto sta che il figlio soprannominato Roberto il Calabrese ora è stato nuovamente arrestato dai carabinieri di Varese insieme ad altre sette persone, tutti indagati per traffico internazionale di armi e droga. Secondo i militari il clan importava dalla Svizzera armi anche da guerra, destinate alla criminalità e per farlo utilizzava auto condotte da una coppia di insospettabili anziani. Sono in corso verifiche per stabilire se le armi provenienti dall'estero servissero ad armare proprio la cosca di Ferrazzo. impegnata da anni sostengono gli inquirenti in una faida contro il gruppo capeggiato da Mario Donato Ferrazzo dopo la scissione del 96 e in questo quadro si inserisce anche il ritrovamento dell'arsenale fatto un anno fa a Termoli, un deposito che non serviva per possibili rapine e assalti a portavalori, ma stando agli ultimi arresti poteva far parte della rete criminale che partiva dalla Svizzera e arrivava in Calabria passando dal Molise.